Ciao ragazzi, volevo parlarvi di un profumone nel senso storico, classe 1902 della Penhaligons e questo profumo l'ha stato recensito più volte da canali che io stesso vi ho consigliato perché parlavano di rasatura, di prodotti da barba ma anche della storia di Penhaligons e questo Penhain Bouquet è un classico proprio anche per gli appassionati della rasatura perché comunque Floris, Gave, Tramper, True Fit and Heal, Penhaligons la toletta dell'uomo dalla rasatura ai profumi è un qualcosa che poi è stato molto affrontato, per esempio ricordo il canale di Giacomo Contro che spesso vi avevo consigliato e questo Penhain Bouquet è uno dei primi loro profumi anche se in realtà la tradizione è ovviamente molto più antica però diciamo di quelli da uomo noi abbiamo già accenato a Man Bouquet ovviamente ce ne sono altri molto importanti della loro tradizione ma questo è uno dei capisaldi perché parte proprio da una tradizione coloniale però affronta una strada più inglese in questo caso anche minimalista nel senso che ci sono pochissime note è una fragranza infatti abbastanza lineare e non è molto complessa allora nel 1902 Blenheim perché Blenheim? perché comunque era il Blenheim Palace era il palazzo nell'Oxfordshire che utilizzavano i duchi di Marlborough e perciò è un omaggio a questo palazzo poi in realtà questo profumo è stato reso famoso da tantissimi personaggi che lo hanno, perlomeno sapendo che lo utilizzavano insomma a partire da Churchill Churchill pare che adorasse questo e Floris 127 Special che è un'altra colonia sempre classicheggiante poi però c'è stato anche comunque diversi personaggi della casata reale ma anche il duca di Edimburgo appunto il principe William insomma sono state poi è stato considerato un profumo utilizzato proprio dei reali, dei nobili inglesi allora secondo me questo profumo ha dato poi vita a un filone di fragranze che giocano un po' tra agrumi e pino fino a poi arrivare a fragranze che praticamente poi si sono incentrati invece proprio sul pino in realtà io potrei farvi un unico video su tutte le fragranze che hanno una nota di pino durerebbe tipo 2-3 ore io non gliela farei a caricare perché mi ci vorrebbe un giorno a caricarlo su youtube perciò io cerco di fare un summit, un excursus a tal proposito rispetto agli excursus volevo proporvi di seguire soprattutto voi fanciulle dato che io parlo così raramente di fragranze unisex o femminili unisex si di nicchia soprattutto però le femminili classiche ne faccio solo cenno a quel punto ho visto che in linea col mio canale ma molto più professionale preciso, raffinato, giusto dal tocco diciamo curato da un tocco femminile che in questi casi fa la differenza c'è il canale polvere di viola che effettivamente è un canale che io vi consiglio perché parla di tantissimi classici appunto anche di Penaligons ho visto un video fatto molto bene lavandola di Penaligons anche il classicissimo Garlam Mitsuko e adesso non so se mi ricorderò di inserire sotto il link ma sicuramente andatevelo a cercare casomai ve lo scrivo e ve lo raccomando soprattutto a voi fanciulle ma dato che qualche classico femminile a livello storico è importante anche per noi maschietti secondo me dovreste andarvelo a vedere allora le note che riassume Fragrantica ma più o meno nel tempo sono state anche dichiare dalla casa sono proprio il limone da Amalfi nota di limone della tradizione della colonia il lime, la limetta, il lime la lavanda, il pino, il pepe nero e il maschio una nota di maschio leggermente animalica ovviamente quello che ci arriva oggi non è quello di una volta ma è inutile ripeterlo ogni volta le riformulazioni ma anche la conservazione delle fragranze fa la differenza allora di per sé è un profumo abbastanza agrumato perché questo limone dolce dolce ma stemperato dal lime che è un po' più acidulo per certi versi anche se poi insomma tutte e due gli agrumi hanno una connotazione un po' complementare il lime forse è un po' più verde dipende poi come la resa delle note però qui crea questa apertura limone insomma limone barra lime che purtroppo ricorda anche tanti detergenti prodotti a limone molto generici è ovvio che negli anni le fragranze dei detersivi dei detergenti anche profumatori d'ambiente da auto grill o per il pavimento è ovvio che abbiano preso dalle fragranze più eleganti perché questa è una fragranza elegantissima questa come può essere l'acqua di Parma il classico italiano la stessa acqua di Colonia classica la 4711 o quella di farina insomma alla fine è ovvio che queste fragranze agrumate abbiano preso un po' delle strade proprio perché sanno di pulito un po' delle strade non cosmetiche in questo caso insomma proprio legate ai detersivi ecco i detersivi detergenti igiene adesso siamo usciti da questo periodo speriamo appunto di pandemia e i detergenti i vari gel per le mani disinfettanti assumevano più o meno delle sfumature che partivano da una grappa stranamente tabaccata quelli lì che poi si invecchiavano a puzze di cui neanche voglio far menzione fino a poi arrivare però diciamo la maggior parte soprattutto appena aperti sanno di limone limone qualcuno leggermente più acqua di colonia con anche un po' di odore di zagara ma quasi tutti limone perché poi le soviettine al limone che ci offrono ancora oggi nei ristoranti di pesce insomma anche nelle compagnie aeree il limone purtroppo si sente ovunque subito qualcuno che non vuole togliersi queste sovrastrutture dice ma perché devo profumare di detergente bisogna anche qui ecco fare un percorso di liberazione da tutte queste sovrastrutture olfattive chiamiamole così allora dicevo poi è ovvio che la lavanda classicissimo inglese ma in generale classico dei profumi anche maschili abbiamo già parlato della famiglia Foucher ricordiamoci che abbiamo fatto quel video su Foucher Royale abbiamo fatto cena a Wild Fern di Ralph Tramper che è proprio subito successiva a English Fern di Penalicons già leggermente successiva e poi a tutta quella tradizione e la lavanda comunque l'acqua di lavanda in generale è qualcosa di molto antico e veramente radicato in questa tradizione soprattutto in questo caso della raseria della rasatura scusate sempre orari particolari e perciò non poteva mancare il pino è un po' una leggera novità ci sono esempi più antichi però in questo caso l'associazione limone e pino fa proprio pensare al Mediterraneo agrumi e pino e lavanda sempre del Mediterraneo della bassa della Provenza insomma della Francia e poi c'è il pepe nero che gli dà quel tocco ancora più scuro in questo caso leggermente speziato e appunto il masch il fissativo animale che adesso ce lo sogniamo perché non c'è più fissativo animale è qualcosa di sintetico di molto probabilmente anzi dà un effetto più pulito oggigiorno invece che sporco allora questa fragranza qui alla fine ha dato vita a fragranze molto più legate alla nostra tradizione italiana in questo caso per esempio se io vado a pescare ecco subito sbaglio perché non ho preparato la fragranza che secondo me subito dopo potrebbe venire ah anzitutto volevo fare una piccola parentesi vedete sempre la spontaneità barra caos c'è Wellington Cologne di Keo F. Tram perché è però del 1876 che in realtà anche lì è aromatica crumata rosmarino nero limuschio secondo me quella poi traccia un'altra strada perché poi c'è una colonia anche più recente di Keo F. Tram ma anche è simile secondo me ad altri classici agrumati come potrebbe essere un altro filone proprio di cui adesso anche acqua di Palma stessa però comunque c'è chi dice che un pochettino assomigli perché la nota comunque di nero lì fusa rosmarino dà un po' quest'idea adesso vi prendo quello che secondo me potrebbe essere già la risposta italiana una risposta della casa GVM di Giovanni di buonanotte comunque di Visconti di Modrone che poi in realtà assunse nel 46 proprio se non erro il nome Victor questo prodotto della famiglia Visconti è il silvestre adesso ve lo prendo scusate che non l'ho tenuto qui fino a poco tempo fa poi dopo non so nel mio caos appunto ve lo vado a cercare anzi per correttezza per una volta metto pausa perché dato che crolla sempre tutto dopo mi ritrovo a dover mettere a posto aspettate un attimo eccomi ragazzi allora ovviamente qui già si passa a un accentrare la piramide olfattiva su note molto più aromatiche e legnose perché c'è sempre l'apertura di bergamotto note erbace lavanda però poi subito si passa a pino spezzi alloro rosa origano caropano anche fiori muschio di quercia vede vercedro e muschio masch sempre quell'animale allora questo profumo secondo me è già una risposta una plausibile quella che perlomeno conosciamo quella che ho trovato io quella che è più famosa perché non sappiamo tutti i profumieri anche quelli scomparsi cosa avranno tirato fuori dopo il Blanay & Bouquet e molti anche prima perché è così classico il limone insomma poche note figuriamoci se è stato proprio il primo a creare un accordo del genere però già qui c'è una chiara ispirazione anche se poi appunto questo rubostisce questa piramide olfattiva anzitutto proprio una piramide vera e propria apertura centro e fondo verso delle note anche più resinose più legate alpino e infatti una risposta una evoluzione questo è del 46 però nel 49 ritorniamo proprio al nome Visconti di Motore ma in questo caso sempre Victor Giuseppe Visconti in questo caso adesso mi è venuta purtroppo un'amnesia tra Giovanni e Giuseppe Visconti però ovviamente poi il nipote è Luchino Visconti il grande regista però abbiate pazienza G è il nome appunto del credo Giuseppe adesso mi viene in mente Giuseppe Giovanni non credo proprio però Giuseppe non voglio fare sfondoni poi ve lo scrivo casomai ha creato questo marchio Victor nel 49 e esce fuori questa acqua di selva tra l'altro questo flacone tanto per dirvene una si può vedere già nel film della Pantera Rosa con David Niven che in quel caso è Charles Leighton e nel 63 questo film si girava a cortina e si vedeva nell'armadietto del bagno proprio di questo signore diversi classici tra cui Port Monsoir di Chanel adesso non mi vengono manco in mente tutti però tra questi c'era anche acqua di selva acqua di selva è una risposta ancora più fresca ancora più come dire anche agrumata in questo caso in cui ritorniamo facciamo più o meno un su e giù tra allontanarci e riavvicinarci a questo Blenheim Bouquet e l'acqua di selva io la trovo ancora più fresca e anche più leggera di questo Silvestre che comunque avendoci più note perché comunque l'acqua di selva se andiamo a vedere non presenta tutte le note cioè comunque ha tante note ma limone basilico bergamotto rosmarino lavanda poi c'ha nel cuore pino timo salvia geranio io me le sono sognate alcune perché se no a memoria sono troppe chiodi di carofano poi torba vitivercedro e muschio è analoga però comunque sfumature e variazioni su tema secondo me è proprio variazioni su tema allora dopo di queste è ovvio che non potevamo citare nel 1955 da Vidal il mitico pino Silvestre che adesso dovrò andare comunque a pescare un secondo però questo già so dove sta eccolo qui ragazzi era impossibile avrei avuto bisogno di una porta aerea della marina militare italiana per poter avere tutti i profumi davanti pronti perché sono tanti pino Silvestre eccolo qui poi negli anni hanno fatto una versione all'estero che non era classico ma si chiamava original poi qualcuno ha cominciato a dire beh però original classico non è proprio uguale perché il classico ha la nota di abete l'original nota di pino allora quello più vicino all'originale bla 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 sicuramente tra le varie formulazioni ha fatto un su e giù tra pure questo proprio singolarmente dal 55 in questo caso tra più balsamico più resinoso più fresco più verde fougere quasi balsamico resinoso più profondo legnoso ha sempre fatto un po' perché in realtà è un profumo che include questi aspetti sia un aspetto molto fresco aromatico erbaceo sia un aspetto invece più scuro più legnoso più balsamico proprio resinoso e la sua evoluzione dovrebbe creare essa stessa questo percorso ma poi a seconda delle formulazioni si affronta l'uno o l'altro parametro diciamo ambito allora se noi volessimo andare avanti ma giusto a citare altre fragranze ma adesso non ho preparato proprio una scaletta in ordine in ordine cronologico perché sono veramente veramente tanti però già vi posso dire che nel 77 Revion che era un classico profumo maschile Revion in questo caso credo sia proprio pur home io l'ho sentito di recente ha un'apertura balsamica fantastica perché anzi ecco già ho sbagliato perché mi sono ricordato adesso che proprio per parlare di Revion devo partire da Agua Brava e in questo caso devo salutare una persona che me l'ha fatto riscoprire di recente che è il mitico Marco Donati uno dei miei più fedeli compagni infattivi e ci facciamo del mare a vicenda facendoci scoprire tante fragranze che poi creano problemi al conto in banca ovviamente però grandi classici e Agua Brava da Puig Antonio Puig si parla della Spagna in questo caso nel 68 le note sono Lavanda Bergamotto Limone D'Amalfi Ginevro Salvia Pino Alloro Chiodi Carofano Timo Carofano Muschio di Quercia Videverpelle Sandalo Paciule Muschio in realtà non ve l'ho suddivisa ma sarebbe una piramide una piramide in questo caso proprio tripartita e anche Agua Brava io c'ho un decad all'apertura quella di oggi perlomeno sembra proprio una spray di citronella antizzanzare ma dopo subito dopo prende quella componente resinosa balsamica ma sempre fresca che io trovo molto comune comunque a Silvestre Acqua di Selva è Pino Silvestre poi da lì secondo me un altro profumo che proprio sembra la caramella quella alpina quella balsamica fresca una volta andavano di più adesso è più raro che si mangiano si mangiano si ingeriscono anche non è il chewing gum e si tratta del Revion appunto del 77 quello apri proprio in quel modo per poi prendere altre sfumature fresche legnose erbace veramente interessante è un profumo io adesso non lo possiedo però è raro da trovare ma sinceramente vale la pena tra l'altro è molto potente ma anche perché ragazzi rispetto a certi profumi di oggi non è che fossero tutti con grande proiezione ma perlomeno quelli che ci arrivano sono macerati per anni e sono molto secondo me molto potenti poi anche nel 76 c'è Alston 1.12 adesso questo ve lo posso prendere e ce l'ho eppure quello non solo la nota di vino ma proprio la concezione verde un secondo solo allora da non confondersi con lo Z14 che è più scuro perché c'ha il cipresso ma anche più speziato tanta cannella eccetera questo Alston 1.12 è anch'esso molto erbaceo fresco legnoso però già è una scuola che si avvicina più agli anni 80 appunto io lo sento in questo caso è comunque molto verde ma sento degli accordi che sono presenti in molti classici degli anni 80 poi tra l'altro ecco questo è del 76 però la scuola è un po' più verso quelli lì del 77 per esempio lo prendo anche questo scusate un secondo fatemi fare anche un po' di sport allora Laramis Devine Country Cologne questa è la più recente formulazione ancora si trova sbrigatevi a prenderlo anzi non sbrigatevi a prenderlo avete rotto che finite i profumi che poi sono discontinuati però non lo fanno più si trova in giro ancora questo è un'altra strada ancora perché si pino ma soprattutto l'odore quasi delle strade di campagna del fieno seccato al sole quasi delle stalle c'è una nota anche coriacea anche garofano comunque anche delle spezie la cannella però comunque ha anche quell'aspetto erbaceo un po' forestale e in questo senso nel 78 proprio l'anno dopo adesso vedete mi cade l'occhio in modo cronologico ma sicuramente poi qualche qualche beh dovrò comunque fare qualche flashback del 78 ve lo prendo c'è il mitico Yatagan di Caron ci provo a prenderlo vediamo se riesco perché qui c'è proprio un percorso di guerra mi sa che io non mi fido ci provo ecco non è crollato qualcosa ma ho acciaccato io qualcosa ho acciaccato Yatagan di Caron questo è proprio ancora più forestale perché poi c'ha delle note ancora più spiccatamente animaliche animali di Castorio e proprio anche questo è una passeggiata nel bosco non ci sono solo gli odori verdi gli odori freschi aromatici degli alberi e delle resine ma ci sono anche proprio degli odori più fecali che ricordano un po' l'umidità che rimane che poi si asciuga al sole di certe piante della terra è un profumo diciamo che non è pure questo è una strada un po' come dire non mi sta più venendo quello che volevo dire ma nel senso che prendo un'altra strada però anche questo è molto forestale e si sente anche qui una nota lipino balsamica molto importante chissà forse se non ci fosse stato questo molto comunque diverso non avrebbero preso strada anche queste me lo fate mettere a posto e vi posso farcenno di un altro vediamo se ce l'ho qui tutti vicini ah beh del mitico polo il mitico polo del 78 dello stesso anno non mi ricordo il mese raga scusatemi ma io non sono così preciso come altri veri youtubers lo poso e prendo polo ok allora polo polo dirà flore nel classicissimo io ce l'ho di diverse formulazioni allora diciamo che paradossalmente quelli più vecchi sono più freschi proprio e qui in questo senso si avvicinano più ah ma può far bacco è anche simile la confezione no si avvicina un po' a quella concezione in realtà polo quello che gioca a polo di che devo dorare allora se è caduto e in dialetto si è fatto anche una bella sgrugnata cioè si è fatto male sull'erba un po' l'erba l'odore dell'erba comunque dove si pratica il polo un po' l'odore anche del cavallo si perché c'è anche un po' di cuoio della sella poi l'odore del tabacco perché anche proprio in quell'ambiente tra i giocatori di polo il discorso della pipa infatti a me ricorda proprio il fondo soprattutto di certe formulazioni di questo che sono più concentrate su questo fondo mi ricordano maggiormente proprio una pipa spenta che c'ha l'odore ancora del legno ma del bruciacchiato sbruciacchiato e del tabacco proprio in questo caso che un po' è rimasto vedete che da agua brava che ha cominciato a mettere la pelle nel fondo poi tutti questi hanno preso già questa strada questo infatti ripeto nella prima parte è proprio della famiglia di questi altri poi nel fondo già c'è questo tabacco che io sento molto che fa un accordo con anche gli altri legni e prende poi questa variante tabaccata diciamo coiata e tabaccata dall'altra parte la famiglia tabaccata è una sottofamiglia di quella coiata per cui spesso si usa l'una o l'altra nota per dire quasi la stessa cosa e lo poso un attimo perché oppure lo lascio qui pietà ho pietà di voi che dovete guardare pure questo non montaggio e in questo caso io potrei anche farvi cenno allora nell'80 c'è il mitico One Meshaw di Bogart One Meshaw di Bogart che anche quello apre più o meno soprattutto le recenti formulazioni più o meno come detergente di un autogrill però poi passa poi in un percorso più boschivo pinoso comunque verde e legnoso e aromatico un po' tutto perché sono molto complesse queste fragranze poi in realtà quando qualcuno lo sente subito pensa legnoso e verde aromatico e soprattutto il solito discorso di detergenti ve lo prendo un secondo l'avevo preparato più o meno ecco qui in diretta è caduto e franato qualche cosa se sapeste quanto è difficile tenere tutti questi profumi meglio non avete questo Bogart di One Meshaw Bogart che non è da confondersi con la signature che però è più simile alla Fuchère la famiglia Fuchère eccolo qui adesso neanche lo riesco a sentire bene però è molto pulito fino a poi diventare molto puzzoso c'ha anche lui delle note coriace animali non ricordo se è proprio Castorio e già si allontana in questo senso ma comunque fa parte di questa categoria poso questo e il prossimo è il mitico Quorum perché nell'81 c'è il mitico Quorum incredibile che sto riuscendo a tenere abbastanza l'ordine cronologico non essendomelo preparato tra l'altro lo vado non è un autoelogio diciamo un grazie al cielo di aver beccato subito allora prendo abbiamo detto il Quorum un secondo eccolo qui eccolo qui ragazzi ma questa volta ce l'ho anche a portata il Quorum il mitico Antonio Puig Quorum perciò famiglia dell'acqua brava cioè sempre Antonio Puig e il Quorum ovviamente anche questo è stato riformulato è allora è della stessa famiglia anche questo si somigliano se dovessi fare un video con tutte le differenze tra di loro cioè ci vorrebbero ore perché ognuno ha una sua specettatura altrimenti io stesso se fossero identici non li avrei non li avrei tutti però sicuramente questo poi è ancora più scuro se possibile è meno fresco più scuro perché poi c'è questo fondo che ricorda proprio gli oli essenziali di sandalo misto a tanto balsamico del pino tanto tanto muschio di quercia anche qui il tabacco il cuoio il tabacco il cuoio pure questo può ricordare ecco questo mi è venuto in mente quando ho fumato una delle ultime volte che fumai due tre forse un paio di toscani con brutti risultati perché io mi sento male se fumo in realtà non mi fa proprio bene e non fa bene a nessuno però in effetti il quorum ricorda un po' quello nel fondo quasi un po' un sigaro però molto balsamico a seconda di quando lo mettete della situazione atmosferica delle condizioni atmosferiche può tirar fuori più un aspetto o un altro senz'altro l'apertura è comunque fresca sempre di questa tradizione erbace aromatica con qualche cosa che sa di pulito però ci stiamo sporcando moltissimo ecco non in senso volgare ma in senso di note più che poi sono più sporche cosa ci abbiamo dopo quorum rispetto perché poi ci sono tante ragazze tantissime situazioni molto simili anzi qualcuno mi sono sforzato di toglierlo perché ripeto poi si c'è alpino ma poi è più concentrato sul tabacco o c'è alpino ma è ancora più concentrato sui animali non mi sembrava giusto di mettere troppa carne al fuoco e tra l'altro ecco questo è dell'81 poi ci sono tantissimi altri durante gli anni 80 di cui adesso non vi faccio menzione per esempio vabbè alcuni che mi ricordo Jaguar for Men dell'88 pure questo è di questa categoria secondo me l'88 per esempio uno che ho di Essenzia è l'Esenfia Leve Luve anzi Luve che è un marchio spagnolo anche questo Essenzia Leve Purom o De Toilette e poi è stato riformulato diverse volte ragazzi questo è tantissimo fresco verde ma tantissimo ancora più balsamico ancora più fresco questo per certi versi perché è ancora verde aromatico balsamico resinoso e tra l'altro anche parecchio potente questa è una vecchia formulazione ne hanno fatte poi differenti e questo assolutamente non può che non essere insomma di questa famiglia tra l'altro odorando quello mi è venuto in mente un altro che però che è Atkinsons Rockford Ice ce l'ho non ve lo faccio vedere perché un po' gli somiglia però poi quello vuole dare l'idea di ghiaccio per cui è ancora più fresco ma nel fondo appartiene a questa categoria secondo me ce l'ho non ve lo faccio vedere ve ne parlai in passato poi c'è Lussard di Van Cleefen Alper se io preferisco il puomo però Lussard dell'89 anche esso molto fresco molto erbaceo appartiene a questa categoria però prima di quello se non erro c'è sempre nell'89 per cui non prima proprio in quell'anno nell'89 il miti con Sung Home che ce l'ho anche questo pronto eccolo qui questa è l'ultimissima formazione ce ne sono state di più ce ne sono state diverse probabilmente i primi erano poi un colore che ricorda più il viola qui già è un violaceo più bluastro questo proprio molti hanno detto che ricorda tantissimo il sapone Irish Spring che noi per un'erlandese noi non lo usiamo molto in Italia non l'ho mai visto però per gli anglosassoni Irish Spring è proprio una saponetta per eccellenza che sa un po' di verde che sfiora la famiglia Fugere in realtà ma nonostante questa apertura da saponetta barra ammorbidente molto fresca e buono c'è anche delle note che per me lo fanno comunque associare a questa famiglia vedete che dagli anni 70-80 questa idea di verde di boschi di pino di resine è proprio fiorita e perciò questo Blanheim Bouchet secondo me ha dato questo piglio fin da allora con grandi risultati perché da lì poi ne hanno inventati diversi poi dovessi andare ancora avanti ragazzi ce ne sono veramente tanti adesso ce n'è un altro qui metto pausa perché lo devo andare a cercare c'è un altro per esempio arabo che mi è venuto in mente che un po' appartiene a questa categoria un secondo ecco per esempio mi è venuto in mente un altro sempre della famiglia di Pino Silvestre perché poi Pino Silvestre ha fatto tanti flankers qui devo ringraziare il mitico il mitico Franz che me lo cedette e questo è molto più moderno in realtà è il Fougere non è manco quello che vi volevo far vedere però hanno fatto anche dei flankers che assomigliano molto proprio al Pino Silvestre con variazioni leggermente più moderne ma quello che vi volevo far vedere non mi ricordo l'anno né nulla perché mi è venuto in mente adesso è questo verde di Ajmal questo verde per esempio è verde non è che c'è scritto Pino ma senza altro sfiora in una chiave leggermente più moderna con anche un eventuale leggero tocco arabbeggiante c'è qualcosa di queste colonie questi profumi più vecchi però sapete poi il fatto è che alcune di queste fragranze prendono strade più centrate sul vetiver che è un'altra nota sempre aromatica sempre un po' erbacea legnosetta e balsamica che poi apre un'altra grandissima strada con Guerlain vetiver con vetiver sempre di Twig con vetiver di Carven con il mitico più recente Eclenoir che lì proprio gioca su cipresso e vetiver insomma alla fine il vetiver è poi un'altra faccenda e ne abbiamo già parlato in un altro video perciò io saluto i miei cari amici Franz ovviamente oltre a Franz ci sono altri personaggi che mi hanno aiutato ad accumulare tra virgolette queste chicche del passato anche una carissima amica non ho chiesto se potevo fare il suo nome per evitare di cancellare dopo il canale non faccio il suo nome ma sempre una delle storiche appassionate di profumi vintage o vintage di fragrantica e mi ha aiutato a ottenere molte di queste cose il mitico Marco Donati che scopre sempre insieme a me tanti classici e tutti quelli che mi sostengono compresi ovviamente i parenti la fanciulla che mi sopporta e mi sopporta in senso buono nel senso che in questi casi mi supporta mi asseconda si appassiona poi a volte è ovvio che noi fissati siamo anche un peso ma come dire potremmo parlarne per altri giorni se solo mi venissero in mente tutti gli altri classici che utilizzano molto il pino e queste note fresche tra l'altro anche non ho parlato di quelli moderni ma tanti profumi più recenti tendono a tirar fuori queste cose però diciamo che questa famiglia si è un po' fermata perlomeno questi più agrumati freschi proprio perché oggi ci fanno pensare a detergente andavano di moda ragazzi dagli primi del novecento agli anni ottanta soprattutto questi qui cioè Acqua di Selva è stato un classico incredibile di tantissimi attori personaggi famosi ma proprio se qualcuno vi senta addosso vino silvestre Acqua di Selva le cose sono più o meno tre o gioisce perché gli ricordate suo padre suo nonno suo zio qualche parente anziano oppure gli ricordate un detergente perché i detergenti o l'album o qualche cosa per profumare gli ambienti o il bagno dell'autogrill oppure proprio perché gli ricordate qualche parente probabilmente oggi neanche più in vita vi prendono per un becio ve ne dovete fregare perché in realtà sono di quelle fragranze che azzeccanano perché hanno proprio una capacità aroma terapeutica incredibile veramente rilassante poi per una persona come me insomma è perfetto rilassante perché voi capite che il pino la lavanda gli agrumi lì per lì è frizzantino perché la mattina bisogna alzarsi ragazzi bisogna uscire di casa lucidi se no già si inciampano e lì per lì gli agrumi ti svegliano questa sferzata cromata però poi queste altre note riescono a farti rilassare durante il giorno nonostante l'attività forse una volta il tempo era vissuto in modo diverso la vita era diversa in un contesto del genere era perfetto avere una fragranza del genere non così invadente non così longeva ma pulita che ti faceva pensare a a ciò che tutti potessero desiderare per relax cioè andarsene in una pineta su una costa del Mediterraneo in un bosco ancora c'era un legame con la natura molto forte comunque nonostante insomma il novecento abbia avuto una storia così complessa oggi la maggior parte delle persone bisognerebbe fargli un profumo che sa di grande fratello di televisione ahimè o di computer forse è quello che gli fa pensare a relax però in realtà c'è qualcosa di atavico nel rapporto tra uomo e natura e perciò tornare a fragranze del genere secondo me può aiutare a fare anche un percorso di ritorno ecco perché poi anche parlando di sesso è ovvio che siano fragranze uscite da uomo quasi tutte queste però soprattutto in questo caso a parte queste note di pepe e pino che poi oggi non è che siano così forti cioè il limone e la lavanda ma mica sono note solo dell'uomo sono note di tutti e qualcosa che proprio ci ricorda la nostra radice voglio dire di creatura terrestre perché più naturale di così non si può perciò secondo me tutti gli appassionati di profumi dovrebbero avere almeno un profumo che magari si mettono anche per se stessi tanto comunque non è che lasci chissà quale scia soprattutto questi prima degli anni 80 perché gli anni 80 già sono più pesanti un profumo per sé per fare un aroma della via per ricordarsi per rievocare quei posti dove in realtà veramente ci si ricarica che sono appunto la macchia il bosco e indossarlo con disivoltura in questo senso poi chi ha più coraggio se trova in questa strada anche per l'aspetto nostalgico una sua identità non deve vergognarsi perché adesso a parte le sue strutture olfattive di cui parlavamo prima ma chi è che alla fine può non apprezzare al massimo gli ricorda il suo nonno però in realtà sono profumi buoni capito qui non si arriva mai una puzza talmente forte giusto un po' forse anni 80 quorum ok però sono profumi veramente profumati aromaterapeutici aromatici ok io spero di aver detto tutto ma in realtà ce ne vorrebbero una marea di questi video per anche solo concludere questo discorso però già 35 minuti ragazzi sai quanto ci metterò a caricare poi quando lo sentirò penserò ma qui ho detto questo quest'altro è stato un excursus grazie a chi è arrivato fino alla fine e che troverà utile questo come summit diciamo di questa scuola mettere un like se vi va un commento se avete domande o critiche da fare possibilmente costruttive dato di distruttivo già mi autodistruggo io capendo che è una situazione più casalinga e terra terra di così non si poteva effettuare che dire vi saluto al prossimo video e grazie anche al sostegno ripeto di questi amici tra cui questa youtuber di polvere di viole che secondo me andrebbe seguita alla prossima grazie a tutti